E così Cappuccetto Rosso entrò nella casa della nonna, ignara del fatto che la nonna era in realtà il lupo cattivo travestito, e disse Oh nonna, ma che mani grandi che hai! Per accarezzarti meglio, Cappuccetto Oh nonna, ma che orecchie grandi che hai! Per sentirti meglio, Cappuccetto Oh no! Ma, ma, ma nonno, che, che, che